Presidente Marco Baldin, ringrazio ovviamente la Peneo Lenni, la sorella non per l'altra che prima ci ha salutato, Carlo Alberto Tesseri che comunque ti dà la sua a momenti, tutte le autorità che sono presenti qui oggi e che hanno portato e porteranno il loro saluto, i colleghi e gli amici Presidenti degli ordini che sono qui presenti, in particolare abbiamo il Presidente della Federazione regionale degli ordini di generi Paolo Casparito, al quale tra un po' darò la parola e tutti voi che siete qui convenuti, numerosi devo dire, ci vanno a dire che insomma l'Ateneo ha sempre, suscita sempre un grande richiamo di prestigio che gode all'interno della città e consentitemi comunque di ringraziare molto Marco Baldin che parlerà probabilmente in qualità di Vice Presidente del Collegio ma anche di organizzatore perché poi ci vuole qualcuno che metta insieme tutte le forze che hanno lavorato e che le facesse dei video di oggi e lui si è riuscito. Quindi grazie veramente a tutti e con cui io termino e passo la parola a Marco Baldin per l'appunto per il suo intervento di saluto a tutti i colleghi. Grazie.